L'incontro di stasera si è svolto con la stessa delegazione della scorsa volta e gli assessori Bella, Caldara che è il vice sindaco e Galli. Non era presente il sindaco che ha delegato il vice sindaco di portarci le sue opinioni. La proposta di consulta non è stata accettata perché a loro dire non riveste le funzioni che a noi interessavano, ovvero quella di poter essere aperta e di poter essere convocata con regolarità. Ci è stato detto che generalmente una consulta viene convocata due volte l'anno e i membri che partecipano devono essere votati. Quello che invece viene proposto come più incisivo e anche più facile e veloce da attuare in tempi brevi è quello di una commissione, in particolare la commissione 2 che a Como ha la delega all'ambiente. La proposta quindi è quella di vedersi prossimamente con il presidente di tale commissione che è Luca Biondi e concordare con lui la convocazione di un'assemblea entro Natale, e concordare con lui l'ordine del giorno che sarebbe non specifico su un certo tema ma ampio sui vari temi ambientali per poter avere così un aggiornamento su quali sono le azioni dell'amministrazione in questo campo e poter raccogliere proposte dei cittadini. Noi proporremo in questa sede anche di invitare e di allargare questa commissione ai tanti diversi soggetti associativi e istituzionali che ci sono nella città in modo da poter coinvolgere in questa nostra lotta tutta la città. Grazie.